vai siamo sotto marina nella parte di marina veccia e praticamente questa sera c'è stato l'ennesimo scippo questo da cui che sappiamo è il terzo forse il quarto il primo è successo strada madonna marina il secondo è successo quello proprio primo il secondo è successo vicino alla chiesa di san martino che poi ha proseguito verso verso questa cosa poi è successo un altro che però non siamo sicurissimi è un altro ancora e su sta proprio in questo momento sta arrivando in mezzo della polizia locale con l'ambulanza e proprio e proprio questa sera praticamente è successo un altro un altro scippo qui una signora una signora di circa 40 anni ha avuto è stata scippata spaventato fatta male il lo scippatore è stato visto sembra che sia la persona mingerlina non di grande corporatura è stato visto da due persone e c'è la polizia che stanno cercando di fare di tutto per 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 catturare questa persona perché evidentemente insomma è chiaro che deve essere uno squilibrato perché uno che fa questo tipo di di rapina qua in zona e continuando col rischio di far male perché questa signora come vedete c'è l'ambulanza quindi questa è la situazione comunque guardate c'è la polizia e le forze dell'ordine carabinieri che sono veramente dannati per prenderlo stanno proprio cercando di tutti i modi e ci sono anche dei cittadini che stanno partecipando così a vedere trovare ovviamente qua sapete le calli sono molto strette e quindi uno con un ciclo motore ma invitiamo tutti a pensare un attimo a vedere se vi viene in mente qualcosa per cercare di dare delle indicazioni alle forze dell'ordine io direi per il momento la notizia è questa non aggiungiamo altro speriamo che presto questa persona venga venga presa e assicurata insomma che non possa in condizioni di nuocere